Ciao ragazzi e bentornati qui sul canale, oggi voglio farvi vedere un sito che è una bomba per imparare qualunque libreria o framework javascript. Stavo iniziando a studiare un nuovo framework javascript, Quick, si chiama Quick, è molto molto interessante, ne parleremo, e mi è capitato questo sito che vi assicuro è una figata perché vi permette benissimo di imparare da una libreria che conoscete una nuova libreria framework e in realtà vi aiuta anche a capire meglio alcuni meccanismi, quindi fidatevi, fidatevi è una cosa molto molto interessante. Tra l'altro colgo l'occasione per rispondere a una domanda che mi fanno sempre tantissimo, ovvero dovrei studiare Vue o React, Angular o Svelte? Ragazzi la cosa più importante non è certo la libreria o framework ma è conoscere bene ovviamente come funziona un sito web, quali sono le caratteristiche fondamentali di come funziona il web in generale ma proprio anche i meccanismi di un sito, del perché state sviluppando un'applicazione, una web app e cosa aggiunge, cosa vuol dire questo e come vi dicevo questo sito in realtà un po' vi aiuta in questo. Ovviamente è fondamentale conoscere anche le basi di programmazione e ovviamente in questo caso del linguaggio che andate a utilizzare che è JavaScript, quindi penso sia molto più importante studiare bene JavaScript, studiare bene tutti i meccanismi legati alla programmazione in generale ma soprattutto applicati a JavaScript e di conseguenza poi anche arrivare a TypeScript perché alla fine è un passaggio molto molto consigliato secondo me, ma in generale è più importante concentrarsi sulle fondamenta perché poi queste librerie come vedremo, come vedremo anche adesso, fanno qualcosa, hanno un ruolo molto specifico che in qualche modo è più facile capire una volta che si capisce tutto il resto. Fatta questa doverosa premessa andiamo a vedere questo sito. Dunque il sito in questione si chiama Component Party, quindi festa di componenti, già il nome è molto simpatico e questo sito permette di comparare tra di loro i vari framework e librerie in base a quello, all'azione che vogliamo fare, vediamolo meglio in dettaglio. Intanto, allora in alto, intanto vediamo già che c'è tutto un elenco di librerie e framework, in questo momento è selezionato solo React e vediamo dopo cosa succede nel selezionare le altre. A sinistra invece ho un menu in cui è presente una divisione, diciamo, per funzionalità della nostra libreria, del nostro framework. Vediamo che all'inizio si parte con la reactivity, che è uno dei componenti principali, dei motivi principali per cui si usa una libreria, ovvero aggiungere reattività alla nostra interfaccia al modificare dei dati. Vediamo quindi che ci sono vari modi di utilizzare gli stati, poi abbiamo il template, quindi come la libreria andrà a visualizzare il nostro output, la nostra interfaccia, il life cycle, quindi come andare a incastrare altri loro componenti, poi abbiamo il form e poi abbiamo altre feature che sono, diciamo, caratteristiche principali di una web app. Come vedete, al primo sguardo già capite che in realtà questo è un ottimo modo per vedere come funziona una libreria. Per esempio, io adesso sono solo su React, quindi non sto facendo nessuna comparazione tra librerie. Se vediamo qua, per esempio, declare state, mi fa vedere come si dichiara uno stato, poi c'è update state, mi fa vedere come si aggiorna computed state, quindi uno stato calcolato, quindi già qua mi fa vedere un po' delle fondamenta di React, per esempio, templating, ovvero come viene visualizzato l'interfaccia da React, in questo caso con JSX, come stilizzare, ma qua c'è un loop, cioè ci sono proprio caratteristiche, già solo così, ovviamente non c'è nessuna documentazione, quindi è molto più difficile, ma in realtà ci sono isolati e centralizzati gli elementi chiave della libreria, in questo caso di React, c'è l'event click, eccetera, eccetera. C'è per esempio il life cycle, quindi il ciclo di vita del nostro componente. Come fare, per esempio, un mount, come faccio un mount, quindi al mount del mio componente a fare qualcosa, ci fa vedere, per esempio, che React lo fa con useEffect, in questo modo con l'array vuoto passato come dipendenza, per esempio, la mount, il return sempre dentro useEffect, no? Queste sono già cose che magari uno sa, uno usa, qua ti dice esattamente che cosa fanno, ovvero intervengono in alcuni momenti del nostro componente. Ripeto, è utile anche per imparare una libreria da zero. Poi, component composition, abbiamo detto, appunto, come incastrare tra di loro i componenti, come passare le props da un componente all'altro. Infine, anche interessante, fa vedere web app features, ovvero feature legate all'intera web app, per esempio, come viene renderizzata, quindi abbiamo l'HTML, poi abbiamo il file app, abbiamo il main che va a costruire React DOM, il fetch dei dati, quindi come si fa il fetch dei dati, in questo caso in React, poi c'è il routing, vedete che qua fa vedere, per esempio, con React, come lo fa Next.js, anche se è versioni precedenti alla 13, quindi carino, carino già questo, secondo me già è bello perché punta il focus sul perché si usa una libreria JavaScript nelle varie sue parti, però adesso viene bello. Mettiamo, come nel mio caso, che io conosca React, lo conosca abbastanza bene, queste cose le sappia, diamo per scontato che le sappia, e voglia, per esempio, imparare Angular, perché voglio cercare il lavoro su Angular. Se clicco Angular, seleziono anche Angular, come vedete in questo momento, per ognuna delle voci che vedevamo prima, oltre ad avere lo snippettino di codici su come viene fatto in React, o anche come viene fatto in Angular, quindi per esempio, come si dichiara uno stato in Angular, in questo modo brutto, in questo modo, quindi vedete qua un name John, che era il nostro name, you state John, questo per qualunque cosa, cioè per l'aggiornamento dello stato, per anche il templating, quindi come viene visualizzato il nostro componente, qua ci fa vedere un componente in Angular, capite che se voi avete già dimestichezza con una libreria, per esempio con React, con Vue, con qualunque libreria, imparare quella nuova, andando a fare delle comparazioni su come viene fatto uno specifico compito, ragazzi è potentissimo, perché avete subito un riferimento, voglio fare questa cosa, e qua avete quasi tutto, ovviamente molto generico, come lo fa questa libreria, questa cosa? Quindi capite che questo component party, component party può davvero aiutarvi nell'imparare qualcosa di nuovo. In realtà, se andiamo a vedere qua sopra, ci sono tantissime librerie e framework, nel mio caso, come vi dicevo, vorrei imparare Quick, che è tra l'altro molto recente, eppure qua c'è già, e vedete per esempio a colpo d'occhio quello di cui mi accorgo vedendo questa comparazione, sono le similitudini che ci sono tra diverse librerie e framework. In questo caso, vedete che rispetto a prima Angular, che ha tutto il suo templating, il suo modo diverso di fare le cose, qua vediamo che invece c'è già qualcosa di più familiare per chi arriva da React come me, quindi c'è il JSX, c'è comunque una funzione con Return, è diverso sicuramente lo store, lo state e lo store, lo vedo ad occhio che sono diversi, e sicuramente mi sta sfuggendo, vedendolo solo da qua, tutto quello che è il meccanismo che sta dietro Quick, che ovviamente sarà diverso da React, quindi non sto dicendo che questo è sufficiente per imparare tutto, ma soprattutto nell'ottica di andare a imparare qual è la sintassi su quello che io già conosco, qua è praticamente immediato, cioè io per esempio voglio vedere in Quick come si agisce alla mount, quindi su Live Cycle, vado qua, senza neanche pensarci, sul mount, dove eccolo qua, vedete che c'è use client effect, mi accorgo intanto di due cose, primo quanto è simile a React, effettivamente perché avete use effect in React diventa use client effect, come ci sia in realtà questo dollaro che compariva anche in component in realtà, che sia un po' una caratteristica della sua sintassi, e se mi fossi, cioè se fossi, andando solo sulle documentazioni di Quick questa cosa ovviamente si può vedere ugualmente, ma capite bene che avere un tipo di comparazione di questo tipo vi rende il tutto molto molto più veloce. Non siete contenti, volete vedere, volete fare uno studio sulle sintassi? Io potrei fare il classico paragone React, View, Angular, quindi i Big Tree, vedete come da qua io posso fare un'idea, per esempio che View usa questo modo di fare i templati, Angular invece usa questo, come cambiano per esempio gli event handler? Qua abbiamo su React il classico on click, su View abbiamo il chioccio la click, e su Angular invece abbiamo questo click tra parentesi. Capite che è facile farsi un'idea della sintassi, delle differenze, ovviamente uno si verticalizza per studiare meglio una cosa, ma io credo che questo sito sia ottimo sia per chi vuole, per chi sta imparando una libreria da zero e non ne conosce altre, proprio come vi dicevo perché ho nel focus sulle funzionalità, sul motivo per cui usiamo queste librerie, che spesso sembrano imparo React e divento un programmatore React. Ragazzi, parliamo di JavaScript, parliamo di applicazioni web, parliamo di siti, HTML, di concetti basilari, React serve a fare determinate cose, semplicemente. Che cosa? Qua vi fa un buon riassunto, secondo me, con un bel focus e vederle sotto ottiche diverse vi dà anche un po' un'idea di quale possa essere quello anche per esempio occhio che vi piace di più. È molto importante per me l'approccio col codice di una libreria per scegliere su quale programmare di più. Questo può anche dirvi, questa mi sembra più lineare, questa mi sembra più pratica, questa mi piace di più. Anche queste sono considerazioni da sviluppatore. Credo che questo sito possa essere molto utile a chi sta studiando, a chi vuole studiare una libreria e magari non c'ha voglia. Qua tutto è molto più veloce ed è un ottimo punto anche di partenza per farsi un'idea. Poi ovviamente le documentazioni, documentazioni ufficiali, ragazzi sempre e comunque. Però un sito come questo, soprattutto fatto così bene, secondo me può essere molto molto utile. Se questo video vi è stato utile mi raccomando mettete un mi piace in modo da farmelo sapere e supportare il mio progetto. Iscrivetevi come sempre per non perdere i prossimi video in cui parleremo di altre chic come questa, ma anche di quick, perché quick comunque mi sta piacendo, è interessante, potrebbe avere un suo perché nel futuro, quindi ne parlerò. Parleremo molto ovviamente di react next, perché in questo momento è ancora un po' il mio mondo, sto andando molto in profondità e voglio quindi portarvi i concetti che aiutano molto molto a capire un po' come funziona il tutto. Quindi mi raccomando, iscrivetevi così non ci perdiamo di vista. Trovate in descrizione nel link al mio sito con i miei corsi e alla community Discord, quindi se volete diventare miei amici e chiacchierare con me, fare sessioni insieme, vi aspetto su Discord. Come sempre grazie per aver visto il video, noi ci vediamo, alla prossima!